8 anni e 10 mesi di carcere, questa la pena per Eric Darko, il 31enne del Ghana, che la scorsa estate aveva seminato il panico in più occasioni, molestando e approcciando alcune coppiette di innamorati nella zona del parco di Arezzo. Lesioni e violenza sessuale, l'accusa che gli è appunto costata oltre 8 anni di carcere, l'uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Arezzo che ha confermato la pena per il richiedente asilo. Il 31enne si era reso protagonista di due episodi dopo aver malmenato il ragazzo, l'uomo si era avventato sulle giovanissime fidanzate tentando di stuprarle. La perizia disposta dal giudice Pier Giorgio Ponticelli ha evidenziato come il richiedente asilo sia pienamente in grado di intendere e di volere. In aula come parte civile anche alcuni dei 17 anni molestati e aggrediti la scorsa estate.